Questo programma è realizzato in collaborazione con il Vento di Nord-Est, ventodinordest.com, RDE Radio TV Trieste, Pianeta Oggi TV Venezia. Un benvenuto agli ascoltatori da parte di Biagio Mannino. Armi, armi e ancora armi, questa sembra essere la linea del momento. Armamenti, spese che vanno nella direzione dell'aumento dei budget dedicati proprio alle spese militari. Così in Australia, così in Cina, in India, altrove anche in Europa. E dagli inizi del post-2020, dal momento in cui quella epidemia colpiva l'intera struttura globale, che la geopolitica è di fatto cambiata. E la direzione sembra essere proprio quella della contrapposizione, non solo. Alleanze, contrapposizioni, come detto, si vedono in tutto il contesto globale, trovando delle similitudini nelle aree geografiche più al momento delicate. Così in Europa come in Estremo Oriente. E in queste situazioni assistiamo, come detto, l'aumento delle spese militari. L'Australia ha aumentato le spese militari fin dalla fine del 2020 del 40%, in prospettiva dotandosi di missili a lunga gittata, ma anche un'alleanza, quella con il Regno Unito e gli Stati Uniti, e che porterà proprio nella realtà australiana alla costruzione di sommergibili militari a propulsione nucleare, portando conoscenza e tecnologie statunitensi. Così Giappone, che si prepara a ritornare sui mari, con anche navi dalle quali decolleranno aerei dal 1945, questo non accadeva. La Cina, che sta aumentando i budget delle spese militari, e così anche l'India. La contrapposizione tra Cina e India, che si sta mostrando da tantissimi decenni per problemi mai risolti, come i confini tra i due paesi, sempre oggetto di contrasti. E così altrove a Taiwan, ma in questo momento ciò che destra maggiormente attenzione è proprio l'Europa, perché in Europa si sta svolgendo quella guerra, quella guerra che ha riportato l'Europa al passato. L'Ucraina al centro dell'attenzione, l'attacco russo e la contrapposizione dura una guerra vera e propria. E contemporaneamente la volontà di aumentare i budget delle spese militari, tra cui anche l'Italia, portando al 2% del PIL le spese dedicate proprio al contesto militare. La situazione politica in Italia si mostra particolarmente difficile, perché questa volontà emergerebbe attraverso un decreto effettuato dal governo. Il Parlamento, che in quest'ultimo anno ha visto la propria funzione, quella legislativa, ridotta al minimo essenziale, sta mostrando della contrarietà. Contrarietà che di fatto colpisce proprio quelle componenti della maggioranza di governo. Ma è altrettanto vero che le componenti politiche in questo momento si stanno confrontando e i contrasti non mancano, soprattutto l'opposizione alla direzione, non solo dell'aumento delle spese militari ma anche delle forniture militari all'Ucraina. Come reggerà il sistema politico italiano di fronte a questa situazione? Se andiamo a guardare la storia parlamentare dell'ultimo anno abbiamo assistito a più di 40 voti di fiducia abbinati alle leggi di conversione dei diversi decreti emessi dal governo. Come dire che la politica italiana da un lato si oppone fuori dai palazzi ma poi al momento di votare cambia sostanzialmente idea. La questione è estremamente delicata perché porterebbe di fatto il governo Draghi verso una crisi ma è altrettanto vero che il passato ci ha mostrato come poi alla fine le direzioni siano state proprio quelle volute dallo stesso governo. Per oggi questo è tutto.